Ho fatto tre anni di analogiani. Questa che età? Dai nove ai dodici. E già cominciava a vedersi? Si già ho fatto quei sordienti, non è che si poteva vedere già. Però forse eri più forte. Pensavo solo a divertirmi. Ho pensato sempre a divertirmi. Poi quando ho cominciato a giocare nella primavera della Roma. Dalla Lodigiana? A dodici anni sono andato. Infatti sono sette anni con questo. Vuoi venire nella Roma? Com'è stato? Io ero richiesto dalla Roma a Lazio. Sì, ha pure la Lazio di Grecia. Però siccome ero nella Roma, sono andato. Bellissimo. Anche perché indossare la mia vita a Lazio non è che ci riuscire tanto. Sinceramente. Già c'è gli occhi celesti, quindi basta davanti. Ho fatto tre anni di analogiani. Questa che età? Dai nove ai dodici. E già cominciava a vedersi? Sì, già ho fatto quei sordienti in una che si poteva vedere già. Però forse eri più forte. Pensavo solo a divertirmi.